Il Casarano rimonta il Fasano, aggiudicandosi dopo la lotteria dei calci di rigore il passaggio al terzo turno di Coppa Italia Serie D, al termine di un match tanto folle quanto divertente. I padroni di casa cambiano quattro interpreti rispetto alla gara vinta in trasferta con la Gelbison domenica scorsa in mediana. Cellezzi e non ganci sulla tre quarti, Dos Santos a supporto di Renelus unica punta, 3-4-3 invece per il Casarano con la terza che schiera il tridente, Gionai, Perez, Falcone. Il primo squillo di giornata suona al decimo con Renelus che chiama carotenuto alla rispinta, passano pochi secondi e ci prova anche Bianchini trovando a sua volta la risposta dell'estremo difensore avversario. Al ventesimo si fa vivo il Casarano dalle parti di Lazar che risponde presente sul tiro di Perez. Al ventiduesimo protesteranno i padroni di casa per via di un presunto tocco con il braccio di Gionai in area di rigore, non ravvisato però dal direttore di gara. I biancazzurri della selva si portano in vantaggio al trentacinquesimo con Renelus che sfrutta un erroraccio della retroguardia rossa-azzurra, sguscia via sull'out di destra ed insacca sotto le gambe di carotenuto la rete dell'1-0. Quattro minuti più tardi arriva anche il raddoppio fasanese con Calabria che sfrutta al meglio l'assist di Dos Santos e calcio dove il portiere avversario proprio non può arrivare. Sotto di due gol prove a reagire il Casarano. Ci prova Tiandum dalla distanza al quarantunesimo ma c'è la facile presa di Lazar con quest'ultimo che risponderà presente anche sul tentativo di Perez. Pochi istanti più tardi si va negli spogliatoi sul parziale di 2-0. Nel secondo tempo il Casarano scende in campo con un piglio completamente diverso e dal nono riesce ad accorciare le distanze Perez sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il centravanti mesagnese trova la doppietta al minuto 18 sfruttando al meglio un assist di Ionai. Al trentottesimo il fasano conquista un calcio di rigore con Calabria che va giù dopo un fallo di Cerutti. Dagli 11 metri Ganci si lascia ipnotizzare da carotenuto ma la palla sbatte prima sul palo e poi sui piedi di Ido Iaga che insacca in tapin il nuovo vantaggio biancazzurro. Il Casarano però non molla e nell'ultima azione della partita trova il 3-3 ancora con Leo Perez che a partita praticamente finita allunga la contesa e i calci di rigore. Ad aggiudicarsi la lotteria sono proprio i Salentini che nonostante gli errori di Cerutti e Citro riescono a strappare il pass per il turno successivo. Fra le file del Casarano hanno infatti sbagliato in tre, Ido Iaga, Del Monte e Dorato.